Non è che c'è una qualche bravura, mamma mia, attenzione Ok, qui ho evitato un po' di cose, via Ciao a tutti ragazzi, qua è Texta Oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con un nuovo Death Run, ragazzi Dove cade di tutto Guardate qui, c'è già la salita Migliaia di oggetti piazzati lì Allora, dobbiamo andare Siamo 4 contro 4 Cerchiamo subito di muoverci No, stanno già arrivando le cose Quindi non lo so, non so se muovermi Non ne sono molto convinto, però neanche posso restare qui Perché altrimenti andiamo giù Oh merda, sta già arrivando di tutto ragazzi Attenzione via, vieni qui Mamma mia, ho evitato l'ambulanza Non fottetemi, non fottetemi, non fottetemi I taxi, cazzo No, ambulanza, andate via Attenzione ragazzi Sono stato distrutto totalmente Avevo già evitato troppe cose Non potevo rimanere vivo Mamma mia, ma ragazzi è impossibile questo qui Non so se qualcuno sia rimasto vivo Un mio compagno è rimasto vivo È morto, è morto lo stesso Va bene, ok Niente, primo round Penso già perso Infatti, primo round è perso ragazzi Va bene, però Penso che adesso moriranno anche gli altri Cioè, senza dubbio Devono crepare per forza Incredibile Ho evitato taxi, ambulanze, busse E poi alla fine siamo morti Troppa roba Secondo round Intanto il mio personaggio Ha la faccia Già distrutta Mezza bruciata Allora, vediamo un po' Abbiamo tutte le pistole Qui, perfetto Pistole lancia razzi Vai, spariamo subito Dobbiamo far cadere Tutte le varie cose Andiamo Anche lì I camion dei pompieri Le ambulanze Le ambulanze, cazzo Sono assurde Andiamo, vai Tutto giù Che cazzo Ho finito le munizioni Ambulanza giù Ok Manca il taxi Però non ho più munizioni Sono già morti Ecco qui ragazzi Abbiamo vinto Perché sono già morti È assurdo No, questo death run Non ha Non ha un senso Cioè è difficilissimo Riuscire Riuscire ragazzi A salire E superare tutti gli oggetti Non so come dovremmo fare Terzo round Adesso ci proverò Anche se È difficilissimo salire Perché ci sono Troppe cose che cadono Allora Andiamo Vai vai Saliamo subito Saliamo subito Saliamo subito Dovrei cercare di stare qui Vediamo se posso salire Un po' da questa parte Ma non credo ragazzi No, stanno già arrivando Le ambulanze Non è possibile Guardate qui Busi, camion Oh merda Tensione Tensione No, sono stato colpito Non morire Non morire Dai, possiamo sopravvivere ancora Possiamo sopravvivere Altra ambulanza Oh merda C'è una che sta arrivando Stiamo qui a sinistra Che cazzo era un cadavere quello Un cadavere di un mio compagno Ragazzi Forse siamo sopravvissuti Mamma mia Andiamo Vai vai Ma che ce la possiamo fare Ragazzi Forse siamo sopravvissuti Anche se c'è ancora Qualche oggetto lì Che non promette bene Però ormai sono veramente pochissimi Siamo rimasti in due I miei compagni Gli altri sono morti Cazzo Mamma mia Allora Vediamo un po' Sta accadendo qui Un camion dei pompieri Via da questa parte Non fottermi camion Qui ci sono altre ambulanze Adesso Mamma mia Guardate qui Uh Quello si è salvato Incredibile Guardate cadono anche Gli sportelli Comunque ragazzi Penso che abbiamo vinto Quello ha preso l'ambulanza Ma Riesce a salire Ma non credo proprio È troppo ripido Infatti non ce la fa Allora niente Dobbiamo andare Adesso ci sono delle armi Qui credo Vediamo un po' Quelli stanno continuando A sparare Ah con l'ambulanza Ce la sta facendo Quella muoversi Vabbè ormai siamo arrivati Quindi È inutile Salire o fare Cosa del genere Attenzione Vai muoviamoci Muoviamoci Non voglio essere colpito Non voglio essere colpito Lì dai razzi Poi magari Prendiamo anche fuoco Ok Qui abbiamo RPG Prendi l'RPG Vai Che li fottiamo tutti Andiamo E boom Boom Saltate tutti in aria C'è qualcun altro vivo Prendiamo il lancia granate Li fottiamo così Vai lancia granate Lancia granate Devono morire per forza Dai che potete morire Ragazzi Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi Sono morti tutti Penso di sì Sì ce l'abbiamo fatta Round è vinto ragazzi Siamo riusciti ad uccidere Tre persone A superare tutto quel macello Di auto Ambulanze assurde Vai perfetto Ottimo E ci risiamo Quarto round Andiamo Spariamo subito Facciamo cadere tutto Tutto giù Tutto estremamente giù Tutti in una volta Così Non capiranno proprio nulla Arriverà Arriverà un tornado Una tempesta Di auto Perché non cade quel taxi Allora uno è già morto ragazzi Quel taxi non cade È buggato Non lo so Ah forse dobbiamo colpirlo bene Niente Che cazzo sono morti già tutti Ragazzi abbiamo già vinto il round Incredibile Comunque il taxi alla fine Stava andando giù Niente abbiamo già vinto Dobbiamo evitare le ambulanze I bus Anche se è molto improbabile Cioè fare un'altra volta Quello che ho fatto prima O per meglio dire Avrei la fortuna che ho avuto prima Non è semplice Mamma mia Andiamo 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 gli contro Andiamo gli contro E cerchiamo di sfruttare gli spazi ragazzi Vabbè poi alla fine Dobbiamo essere fortunati Non è che c'è Non è che c'è una qualche bravura Mamma mia Attenzione Ok Qui ho evitato un po' di cose Via Via No il taxi mi ha preso Ma siamo vivi Siamo vivi Dai fermati 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 Ragazzi sono morto Niente sono morto No incredibile Sono morto perché stavo scivolando È assurdo Assurdo Niente abbiamo perso Incredibile Comunque sia La cosa positiva è che uno Da corritori Da runners L'abbiamo vinto Questa è una cosa positiva Perché forse ci porterà alla vittoria Non lo so Sesto round Dai ci avviciniamo Probabilmente alla fine Incredibile Non riesce a sopravvivere Nessuno Vai Tutto giù Andiamo Andiamo Vai bus giù Tutte cose giù Assolutamente Assolutamente Allora cerchiamo di colpire il taxi Vai taxi Ok il taxi è andato Ragazzi facciamo cadere adesso Le cose lì L'ambulanza Colpiamola Perfetto è stata colpita Non lo so Comunque vediamo un po' se quelli muoiono Vai si l'ambulanza l'hanno colpita Allora vediamo un po' se Se moriranno Si qualcuno è già morto Ecco qui sono morti già tutti Incredibile Niente abbiamo vinto ragazzi Quest'altro round Veramente no abbiamo vinto la partita Abbiamo vinto la partita Di già Incredibile Ragazzi io direi di Di fare almeno altri due round Perché Non so È troppo bello Crepano tutti subito Io ne farei altri due di round Ok perfetto Rieccoci qui di nuovo Primo round per noi Questa volta ragazzi Vincerà prima Chi ne vincerà prima due Allora vediamo un po' Dai ce la possiamo fare Poco fa abbiamo vinto noi Però voglio Voglio riprovarci Perché è troppo bello Oh merda Sta già arrivando un camion qui Tensione Mi sono salvato No niente Sono morto Non mi sono per niente salvato Niente qui Massacrato Un altro cadavere C'è un altro cadavere Accanto a me Siamo già morti tutti Sì ragazzi Niente Già abbiamo perso Incredibile No comunque Questo death run È bellissimo Avanti Siamo pronti E poi alla fine È a chi muore prima Ragazzi Il record di chi muore prima Allora andiamo Spariamo di nuovo Al bus Che si trascina Tutti gli oggetti Che ci sono sotto Vai il taxi Il taxi Il taxi è devastante L'abbiamo colpito No l'ho mancato Vai prendi il taxi Ok è andato E anche quell'ambulanza lì Hai colpito le ambulanze Colpite tutte le ambulanze Che sono micidiali Vai vai Anche quei camion Perfetto Allora vediamo un po' Se gli altri sopravviveranno Ma credo proprio di no Quel taxi Perché è fermo Taxi muoviti Che cazzo è Oh merda C'è parte dell'oggetto invisibile Andiamo Niente il taxi Quello lì non si muove Si è bugato E niente Qualcuno Lì è già morto Sicuramente Ma forse gli altri no Non lo so Vediamo se qualcuno Ce la farà sopravvivere Lì in fondo Uno ha preso il taxi Incredibile ragazzi È sopravvissuto Perfetto Allora siamo morti Per forza qui Mi sa che siamo veramente morti Oh merda Come facciamo adesso Niente Incredibile Vabbè Alla fine prima Soltanto io ero riuscito Ad arrivare alle armi Questa volta invece Anche un altro Spariamo Cerchiamo di colpirlo Se va giù Non si riprende più Però Vediamo un po' Sta scendendo dall'auto Sì ma non possiamo ucciderlo Non è che Non è che possiamo Dargli fuoco Non possiamo fare nulla ragazzi Vediamo un po' No niente da fare Mi sono anche finite Le munizioni E qui siamo morti Per forza Che cazzo Quello si è buttato Vabbè ragazzi Io resto qui Uno è nascosto al radar Oh merda Stiamo fermi qui Stiamo fermi qui Con un piede fuori Tra l'altro Vediamo un po' Ragazzi cosa succede Io sto fermo qui Vediamo se riusciamo a morire Oh merda Soltanto con il lanciagranate Potrebbe fottermi Quello si sta facendo la foto Con me Che ho un piede di fuori Vediamo se si Vedete si Ho un piede ragazzi fuori No veramente assurdo Vediamo se riesce a colpirmi Ma non credo Oh merda Sta lanciando le granate Sta lanciando le granate Ma non ce la fa Ragazzi forse non Oh merda Si sta avvicinando sempre di più Le granate Si stanno avvicinando Sempre Ecco qui Sono morto per forza Era ovvio Avevo anche un piede fuori Abbiamo perso addirittura La partita Sì perché loro Di conseguenza Hanno vinto due round Perché prima noi eravamo morti Comunque sia Volevo fare altri due round Ragazzi così Per vedere un po' Cioè siamo morti Tutti subito Impressionante Death run Devastante Uno dei più impossibili Però comunque sia Noi siamo riusciti A completarlo Dai quindi Non male Detto questo ragazzi Non lo spero che il video vi sia piaciuto Questa lasciate un mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!